Ormai definitivo e ci sono delle date certe. Le elezioni amministrative si svolgeranno domenica 3 e lunedì 4 ottobre, con eventuale turno di ballottaggio domenica 17 e lunedì 18 ottobre. In Puglia si voterà per il rinnovo in 54 comuni. In provincia di Lecce, invece, saranno 21 i comuni che affronteranno il rinnovo dell'assise comunale, tra questi spiccano Gallipoli e Nardò, i comuni più popolosi in corsa per l'elezione del primo cittadino. Al voto nel Salento, inoltre, andranno Alessano, Alliste, Cannole, Capradica, Castrignano del Capo, Cavallino, Collepasso, Diso, Lizzanello, Merissano, Nociglia, Patù, Poggiardo, Sanarica, Specchia, Taurisano, Taviano, Trepuzzi e Uggento.